Musica Amici di Atisport 24, benvenuti, nuova puntata di Due Metri la Palla Noto vista da vicino E' un piacere di avere oggi in nostra compagnia il difensore e vicecapitano della Netafim Bojasco 1951, una delle colonne della formazione Ligure, permettetemi di dirlo, Giacomo Boero Ciao Giacomo, bentornato, è un piacere di averti con noi E allora, iniziamo la nostra chiacchierata partendo dall'ultima uscita Il derby giocato sabato scorso ad Albaro contro il quinto è perso per 12 a 9 Bojasco che torna a perdere dopo il rocambolesco successo contro la De Hacke Che cosa vi lascia la sfida contro la formazione allenata da Bittarelli? Tanto ci lascia un po' di consapevolezza, cioè che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta Nonostante il risultato finale abbiamo comunque giocato alla pari con una formazione che ha obiettivi ben diversi rispetto ai nostri Sicuramente ci lascia con delle informazioni tecniche di gioco da migliorare Ma quello lo sappiamo e lo sapevamo Sicuramente è stata una buona partita Abbiamo giocato per due tempi sicuramente a livello del quinto Che è una squadra strutturata in maniera diversa rispetto a noi Stiamo andando bene, secondo me, al di là dei risultati Per adesso abbiamo incontrato squadre molto al di sopra Squadre alla nostra portata I risultati sono stati abbastanza da pronostico Io però faccio un po' la parte dell'avvocato del diavolo Approfitto della presenza di uno dei senatori della Rosa Partita in equilibrio decisa da due mini break Cosa è che è mancato per provare ad uscire dalla vasca con almeno un punticino Che avrebbe detto tanto, forse, per la vostra classifica? Intendi sabato? Sì, contro il quinto È un po' di consapevolezza dei nostri mezzi Soprattutto in situazioni di difficoltà a metà della partita Nei passaggi obbligati Sia in questo caso È successo anche a Palermo Secondo me ci spaventiamo un po' di noi stessi Nel senso che le formazioni con cui abbiamo giocato Hanno giocatori di grande esperienza Sono solide Lavorano da anni Per fare quello che stanno facendo noi Siamo neopromossi Abbiamo giocatori giovani Stranieri giovani Che si stanno inserendo A mio parere Abbiamo in questi momenti Di queste crocevia della partita Dobbiamo essere un pochino più solidi E credere un pochino di più In quello che facciamo durante tutta la partita Non solo nelle prime due frazioni di gioco Anche durante tutta la partita Ad esempio Cosa che è successa con il Bologna Mi permetto di fare questo appunto Nel momento in cui Anche nel terzo e nel quarto tempo Siamo andati sotto Siamo stati consapevoli Dei nostri mezzi E siamo riusciti a A ribaltare un risultato Che forse sembrava già Già definito E io ti chiedo Quest'anno la rosa del boiasco È stata rinnovata Ma sia con gli stranieri Che con gli italiani È stata anche ulteriormente ringiovanita Sono diversi anche i prospetti Cresciuti nel Vivaio societario Che orbitano stabilmente Nella prima squadra Quanto è importante Per la sostenibilità Del progetto societario Che questi ragazzi Vivano da protagonisti La realtà della massima serie E vadano a cozzare Contro Ivovici Cresciuti E via discorrendo Ma chi può farlo È giusto che lo faccia Credo che a livello Locale Non ci sia strada diversa Se non quella Che stiamo adottando Noi come boiasco Ma come fa il posillipo Come fa Il savona Come fanno altri Chi più chi meno Mette in campo I giovani che ha È importantissimo Perché nel momento storico In cui siamo E comunque Nel momento in cui La palla nuoto Si ritrova A avere la possibilità Di puntare Su giovani Quindi sul futuro È fondamentale Il boiasco Cerca Come sempre Come dà la sua storia Ogni anno Di bilanciare Acquisti Con Vivaio È giusto che I ragazzi giovani Come è successo a me Come è successo Ad altri Nel passato È giusto che si Affaccino in maniera Brusca anche Un pochino più Importante A questo mondo Non è Non è pensabile A giorno d'oggi Fare le cose Con i piedi di piombo O inserire i giovani Poco per volta Bisogna buttarli Nella mischia E A costo anche poi Di Di patire Tutta una stagione O di bucare Diciamo così Una stagione Però O si fa così O non si va avanti Secondo me L'obiettivo Stagionale Non può che essere La conquista Di una salvezza Che si spera Il più tranquilla Possibile Ma Cinicamente Dico Che anche All'ultimo minuto Dell'ultima giornata Nessuno Si rattristerebbe Per questa modalità Chi sono Le vostre rivali Più pericolose Ad oggi Vista la classifica I risultati Sono tutte Pericolose Pensavo Io Che il campionato Fosse E la classifica Fosse Spaccata In In tre Ma secondo me Spaccata in due Ad oggi Catania Bogliasco Bologna Roma Ci metto dentro Anche il Posillipo E ci metterò dentro Anche Salerno E Anzio Per adesso Questo è il grosso Gruppo Che sta dando Tra virgolette Spettacolo Nel senso che I risultati Non sono mai scontati Abbiamo visto Pareggi Sconfitte Vittorie In casa Di formazioni Più deboli Su quelle più forti Non credo Che ci siano Una o due O tre Isolate Rispetto a queste Ma Che ci sia Un grosso gruppo Fatto di Quasi sei squadre Sette squadre Che se la giocheranno Fino alla fine La formula Che hanno La formula Che c'è adesso Del campionato Sulle retrocessioni A me Personalmente piace Quindi abbiamo La possibilità Anche di Fare un eventuale Playout Che ci dà Una possibilità In più Quindi Sarà da giocare Tutto fino in fondo E sarà bello Secondo me Già ora Posso dire Che Secondo me Sarà Un gran bel Il campionato E' uno E' uno Dei più Belli Rispetto Agli ultimi Anni Nel prossimo Turno C'è un'altra Sfida Di quelle Che pesano Davvero Tanto Secondo Scontro Diretto Davanti Al pubblico Amico Arriva Alla Vassallo La noto Catania Reduce dal Primo successo Nel torneo Quali emozioni Possiamo Immaginare Si vivranno Sabato Sarà una partita Di grande Tensione Ma Dall'altra parte Non di Contrazione Quindi non sarà Una partita Contratta Assolutamente Credo che Entrambe le Formazioni Che bilanciano Giovani Con Senatori Diciamo così Hanno il giusto Piglio Per fare Per poter giocare Una partita Di un buon livello E divertente Sicuramente Ci sarà Una forte emozione Perché Entrambi Sappiamo Che Queste occasioni Vanno sfruttate Al cento Per cento La piscina Sarà piena Noi abbiamo Gli riducibili Che ci danno Sempre una grande mano E faranno sentire La loro voce La loro presenza Sarà molto Emozionante E divertente Giocare queste partite Perché Alla fine Si fa tutto Per questo Chiudiamo Con un'ultima battuta Dove credi Si potrà decidere L'assegnazione Della posta In palio In questo match Chi la spunta Cosa deve fare Chi sbaglia meno La porta a casa Come si dice Credo che sarà Una partita Giocata Fondamentalmente Sull'uomo in più Sull'uomo in meno Penso Perché i valori Bene o male Sono gli stessi E quindi Chi può E sarà più freddo In quelle situazioni Riuscirà a portarla A casa E E sarà comunque Una partita Che si deciderà Alla fine Come Come sta succedendo In tutte queste partite Va bene Siamo così Al termine Della nostra Chiacchierata Ringrazio Jack Boero Per essere stato Insieme a noi Questo pomeriggio Do appuntamento Ai nostri spettatori Per la prossima puntata Ciao Giacomo Ciao a tutti Grazie